Egon, Barialias. Ho cercato di concentrare il soggetto tutto in questa parte e poi scaricherò il peso della murata. Per capirci, questa è una struttura di una possibile macchinina un po' gommosa. Che però non è quella che poi rifarò sul muro. Perché sennò facevano delle statue. Non le nemmeno facevano prima. È la migliore forma libera di espressione che permette una comunicazione verso l'esterno. Lo scopo è quello di realizzare opere d'arte all'aperto e di cui tutti possano soffrirne. La street art ha anche uno scopo sociale. Quello di comunicare anche un certo messaggio alle persone. Come in questo caso. Solitamente si parla di grande velocità, di alta velocità. Mentre l'autodromo di Varano è l'unico e anche il primo centro internazionale sulla guida sicura. Gli artisti chiaramente hanno avuto preventivamente il tema con delle linee guida entro cui stare. Però sono stati rispettati nella loro ricerca artistica. Perché ognuno di loro ha una caratteristica, una stilistica, un modo di esprimersi. Che non doveva venire meno, anzi doveva essere esaltata. Quei tempi ero stato a New York per tre mesi e quindi ero stato estremamente colpito da quello che si iniziava a vedere nel mondo della street art. E allora avevo proposto mio padre, dai, prendiamo degli artisti e rendiamo questo muro in qualcosa di particolare, di indimenticabile. Questo muro è stato edificato all'inizio degli anni 90 ed era stato un momento importante perché era un momento in cui si sviluppava il nostro impianto. Ce l'ho fatta solo 25 anni dopo e sono veramente contento. Questi tre giorni sono stati estremamente piacevoli e ritengo che sia stato fatto un lavoro importante. Grazie a tutti. Grazie a tutti.